Stiamo per entrare a casa di Natasha Stefanenko. Eccola! Ciao! Ti stavo aspettando, vieni. Oggi Natasha ci farà vedere un trucco da bionda. Ah, certo, da Marilyn. Tutte possono essere bionde dentro. Sei bionda, non lo sai, ma sei bionda. La base, luminosa, gli occhi ritenziati abbastanza e le labbra sensuali. Poi si trucca anche con le mani, se vogliamo. È una tecnica giapponese. Tutti i trucchi e fai anche un massaggio. E poi dopo sembra che la pace è staccata dal corpo. Cammino da sola. Che fai adesso? Correttore. Correttore. Le macchie, le occhiaia, brufolino. L'acne democratica. La trovi sui visi delle più giovani e su quelle un po' più senior. Quindi è una delle cose più democratiche come la cellulite. Il contouring lo facciamo Natasha's Way. Natasha's Way è il titolo del blog di Natasha. Sì, ci sono tanti segreti. Esatto, di lifestyle, di tutto, l'ho letto. Prendi tutto un po' e fai una specie di cornice. E poi con fard fai un po' di colore qua sui zigoni. Gli occhi assolutamente naturali, è meglio utilizzare ombrette in crema. Tra il tuo quadro 40 è meglio caricare sotto che sopra chi non ha fatto delle faroplastiche come me. Tive ciglie. È molto importante, ragazzi. Gli occhi apri lo sguardo. E adesso le labbra. Natasha ci mostra questo moccicone di matita. Riaconsumata. Strausato. Questa è una matita trasparente. Sì. Fondamentale che serve solo per bloccare il rossetto. Assolutamente senza la matita, è da vecchia e nessuno vuole essere vecchia. Ecco, pronti. Ti piace? Fantastica. Et voilà. Un trucco da bionda? Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Ciao. Ciao.